Buonasera a Blizio della Guardia di Finanza, questa mattina negli uffici dell'autostrada dei Fiori e nelle abitazioni ed uffici di soci di un'impresa imperese che ha svolto lavori per l'autostrada. L'inchiesta è condotta dal sostituto procuratore Maria Antonia Di Lazzaro e per ora ci sono due indagati accusati di turbativa di gara in concorso. Numerosi documenti sequestrati nel corso delle perquisizioni effettuate stamani da oltre 40 finanzieri, in particolare nel servizio che apre l'edizione di oggi. Questa mattina oltre 40 finanzieri sono stati impegnati in una serie di perquisizioni negli uffici dell'autostrada dei Fiori e nell'abitazione uffici dei soci di un'impresa di costruzione imperese, la Icole SRL. Al momento due persone sono già sul registro dagli indagati con l'accusa di turbativa di gara in concorso. Si tratta di Raffaella Varano, 39 anni, impiegata dell'Auto Fiori e socia della Icole e suo padre Gianfranco, 71 anni, anche lui socio della stessa impresa. Le indagini vertono sui lavori che l'autostrada dei Fiori affida al 60% in via diretta a società facenti parte del gruppo Gavio che controlla la stessa società autostradale. Molti di questi lavori vengono poi subappaltati e le fiamme gialle, anche attraverso sopralluoghi nei cantieri, hanno riscontrato la costante presenza della Icole SRL amministrata da Gianfranco Varano e della quale fa parte appunto anche la figlia. Secondo la procura quindi esiste un'incompatibilità dovuta al fatto che Raffaella Varano è al tempo stesso socio di un'impresa che opera per l'autostrada e dipendente dell'Auto Fiori e si profila anche un'illusione della normativa sugli appalti pubblici dovuta agli affidamenti diretti senza gara di appalto. Le fiamme gialle questa mattina hanno perquisito l'ufficio della Direzione Affari Generali, l'ufficio contratti e l'ufficio personale dell'autostrada, oltre agli uffici della Icole in via Argine Sinistro a Imperia e all'abitazione di tutti i soci dell'impresa, Gianfranco Varano, le figlie Raffaella e Stefania di Imperia, Franco del Pulito di Diano Vorello, Igor Barale e Domenico Crescente di Imperia. Al termine di questa lunga mattinata gli uomini della Guardia di Finanza hanno sequestrato numerosi faldoni relativi a contratti e affidamenti di lavori e sono stati anche coadiuvati da alcuni agenti della Polizia Postale per recuperare il materiale informatico presente nei computer degli uffici sottoposti a perquisizioni. L'inchiesta è in pieno svolgimento e sembra che altri personaggi, sui quali al momento viene mantenuto stretto riservo, siano già oggetto di attenzione da parte degli inquirenti. Ha colpito molto in tutto il ponente Ligure la notizia della morte di Gaetano Musella, ex giocatore del Napoli, allenatore della Sarremese, trovato ieri privo di vita in un sentiero del promontorio della Capra Zop a finale Ligure. Musella, che aveva 53 anni, potrebbe essere stato colpito da un malore mentre si stava recando in spiaggia. Da calciatore, oltre che nel Napoli dove aveva segnato molti gol in Serie A e in Coppa UEFA, aveva giocato nel Palermo, a Bologna, a Catanzaro e nel Padova. In carriera anche sette presenze ed una rete nella nazionale Under 21. Da allenatore aveva guidato la Sarremese nel 2005-2006, conquistando un importante settimo posto in classifica in Serie C2 ed una prestigiosa finalissima di Coppa Italia con i Gallipoli. In città si era fatta apprezzare, oltre che per le sue doti tecniche, anche sotto il profilo umano. Nuovi sequestri di merce contraffatta a Sanremo. Gli agenti della Polizia Municipale, durante i controlli al mercato settimanale in Piazza Eroi, hanno identificato un venditore abusivo che stava vendendo oggetti con il marchio contraffatto. Si trattava di orecchini ed altri accessori di bigiotteria, tutti con griffa falsa. La merce, circa 220 pezzi, è stata sequestrata e l'uomo denunciato. Colpo di scena ieri sera in Consiglio Provinciale ad Imperia a causa della mancanza del numero legale. La seduta, nel corso della quale avrebbero dovuto essere approvati gli equilibri di bilancio, è saltata. In conseguenza le assenze nelle file della maggioranza, segno evidente del malessere politico della stessa, il Presidente Luigi Sappa ha quasi subito rassegnato le sue dimissioni. Vediamo il reportage della lunga serata, nel corso del quale ascolteremo le dichiarazioni dello stesso Sappa e del capogruppo del PD, Riccardo Giordano. Pochi istanti fa, qui nella sala consigliare della provincia di Imperia, si è consumato uno di quelli che potrebbero essere gli ultimi atti della vita dell'amministrazione guidata dal Presidente Luigi Sappa. Appello del Consiglio Provinciale, 27 assenti, 4 presenti, non c'è il numero legale e il Presidente Sappa dice subito pronto a trarne le conseguenze, conseguenze politiche uguale dimissioni. Dopo la mancanza del numero legale in Consiglio Provinciale, la presa di posizione del Presidente Luigi Sappa, una determinazione decisa la sua, lei ha già firmato le dimissioni. Ecco, un gesto ovviamente grave, ovviamente importante, questo che cosa significherà? Ci sono 20 giorni di tempo per ratificare queste dimissioni o per ritirarle, ma potrà mai cambiare qualcosa? Guardi, le dimissioni prima si danno e poi si comunicano, io così ho fatto. Ho preso atto che questa sera la mancanza del numero legale della maggioranza su una pratica importante, come gli equilibri di bilancio in una fase in cui la provincia ha la necessità di approvare questo documento, perché deve mantenere il piano di riequilibrio per poter avere nel futuro quella agibilità politica finanziaria auspicabile e a portata di mano. ritengo che fosse ineludibile continuare a far finta di nulla, sarebbe stato un insulto all'intelligenza e a non voler capire le cose. Stamattina in commissione ho partecipato alla discussione sugli equilibri, discussione che poi è sfociata in un ampio dibattito politico alla luce del documento presentato dal gruppo Uniti. Documento in grande parte, in larga parte condivisibile che mi accingevo ad affrontare proprio per dare delle risposte legittime a quei consiglieri che appartengono o appartenevano alla maggioranza. La mancata presenza questa sera in consiglio mi ha fatto riflettere, riflessione che già da tempo coltivo e maturo e ritengo che non ci siano le condizioni politiche e amministrative per andare avanti. Un passaggio politico comunque brutto, Presidente, perché poi alla fine c'è in ballo un discorso di rivedere la Giunta, quindi anche qui viene spiacevole usare questi termini, ma mi sembra che si parli di nuovo di un rimpasto, di un riassetto di poltrone. Lei giustamente dice ora basta, no. Questo però significa anche portare distante la politica dai problemi reali, significa non affrontare questioni come la riviera trasporti, come i dipendenti precari, come il problema dei rifiuti, insomma questioni molto importanti. Anteporre l'azzeramento della Giunta a un documento di programma, a mio avviso è creare prima un contenitore senza sapere cosa ci mettiamo dentro, senza avere i contenuti. Allora io dicevo, vediamo, nulla vieta di adeguare la struttura della Giunta, però un alzeramento, Tukur non rientra nella mia disponibilità, soprattutto l'orientamento umano che ha improntato la mia amministrazione, mi induce a rispettare la dignità di chi ha condiviso con me questo percorso. Ho ritenuto pertanto che se la squadra non funziona sia l'allenatore ad abbandonare, ad andarsene, cosa che sto facendo avendo presentato le dimissioni. La situazione che si è venuta a creare all'interno dell'amministrazione provinciale e della maggioranza viene commentata con durezza ovviamente dai banchi dell'opposizione, in particolare dal Partito Democratico e di questo commento critico se ne incarica Riccardo Giordano. E se devo fare un bilancio di questi tre anni ne esce fuori una considerazione molto, molto negativa. Anche quest'ultima fase, diciamo, dove c'era da gestire una crisi che ormai ieri è evidente che si era aperta, non l'altro ieri, ma un bel po' di tempo fa, credo abbia dimostrato proprio l'incapacità di rendersi conto delle difficoltà che questa amministrazione via via aveva accumulato. Il bilancio quindi è negativo sia nel merito, quindi sia per quello che questa giunta, questa maggioranza è riuscita a fare nel gestire l'ente che è in quello che sembra, diciamo così, l'epilogo di una gestione molto sfortunata e poco, poco, poco positiva. Il Consiglio Provinciale torna a riunirsi questa sera in seconda convocazione e quindi con la necessità di soli otto consiglieri per avere il numero legale per votare gli equilibri di bilancio. Resta però il dubbio che questa pratica, essendo equiparata a rendi conto di gestione, non possa essere affrontata in seconda convocazione. Se così sarà confermata in aula servirà di nuovo la metà più uno dei consiglieri, riproponendo quindi la situazione di ieri con tutte le conseguenze incognite dei numeri. Ieri pomeriggio, dopo l'assemblea dei soci che ne ha ufficializzato l'insediamento, il neopresidente di Banca Carigie Cesare Castelbarco Albani ha incontrato nella sede centrale di Genova della stessa banca i giornalisti e per quasi due ore ha risposto alle loro numerose domande che gli sono state appunto rivolte. Insieme a lui il vicepresidente Alessandro Repetto e il direttore generale della Carigie Ennio Lamonaca. Ascoltiamo quando ha dichiarato il presidente Castelbarco ai nostri microfoni. Il nuovo corso di Banca Carigie sarà un corso di grande contributo allo sviluppo economico in linea con le indicazioni che l'organo di vigilanza ci ha dato. Quindi massima trasparenza, cercare di fare le cose al meglio e portare avanti quelli che sono i progetti di sviluppo per la regione e non solo, anche per altri territori italiani. La gestione sarà una gestione che porterà avanti il Consiglio di amministrazione tutto insieme. Ecco Presidente, una visione su tutto il territorio Ligure, una visione anche attenta sui crediti, qui c'è un problema da recuperare forse? Beh, problemi da recuperare ne abbiamo, ma insomma io ritengo che comunque ci sia una banca fondamentalmente solida, che ha bisogno di alcuni aggiustamenti e che ha bisogno di ritrovare la sua strada e penso che ce la metteremo tutta per riuscirci. Primo passaggio? Soprattutto rispetto a che cosa? Aggiustamente a quelle che sono state le indicazioni di Banca d'Italia. Voi avete visto tutti la lettera di Banca d'Italia, quindi da lì potete assolutamente capire gli aggiustamenti necessari. Cessione a ramo assicurazioni prima di tutto? Cessione a ramo assicurazioni è uno degli aspetti su cui stiamo lavorando, che d'altronde è anche una richiesta che perviene dall'organo di vigilante. È evidente che dovendo fare un nuovo piano strategico industriale avremo bisogno di un amministratore delegato. Lo cercheremo, ci auguriamo di trovarlo e non appena lo avremo trovato cominceremo a lavorare insieme. Il ramo assicurativo è una decisione strategica già presa. È un'indicazione contenuta nella lettera di accompagnamento di Banca d'Italia, quindi ci muoviamo secondo le indicazioni che l'organo di vigilanza ci ha dato. In crisi di governo ovviamente i periodi di instabilità e di crisi non aiutano mai né l'economia né coloro i quali devono prendere delle decisioni in un quadro molto molto difficile da comprendere, specialmente quando parliamo della nostra immagine all'estero. La scelta delle assicurazioni SGR è già stata ceduta, ma se non dovesse bastare ad arrivare agli 800 milioni si potranno prendere in considerazione eccessione per esempio di Banca Cesare Ponti o di altri asset dell'azienda? Tanto adesso basta con questa storia degli 800 perché sono già diventati 700, quindi cerchiamo di essere precisi. Se le assicurazioni si creeranno delle situazioni di difficoltà valuteremo piani alternativi. Mi sembra anche corretto che tutto questo venga discusso nel Consiglio di amministrazione e che non si diano per scontate cose che il Consiglio che si riunirà penso di qui a qualche giorno non ha ancora avuto modo di affrontare. Noi ovviamente cercheremo di mantenere le nostre posizioni a livello nazionale, sia per rispetto nei confronti dei 2 milioni di clienti, sia e soprattutto nei confronti dei nostri dipendenti che ovviamente da parte nostra vogliamo assolutamente tutelare e metterli nelle condizioni di lavorare al meglio. E come abbiamo detto sempre nel corso della conferenza di ieri a Genova di Banca Carigia è intervenuto anche il Vice Presidente Alessandro. Repetto, ascoltiamo anche le sue dichiarazioni. Quello che mi preoccupa è il compito che ci aspetta, nel senso che ciò che ci sta chiedendo la Banca d'Italia non è un fatto che mi preoccupa, sono i tempi, perché Banca d'Italia ci chiede di trovare un nuovo amministratore delegato entro termini brevissimi, ci chiede un nuovo piano industriale entro il 31 ottobre, ci chiede un rafforzamento patrimoniale entro il 31 dicembre. Credo che il nuovo Consiglio di Administrazione dovrà mettersi di buona lena e quindi mettersi ai remi, rimare tutti insieme, insieme alla struttura, insieme al personale, insieme a tutti i dipendenti per fare in modo che questi obiettivi vengano praticamente condivisi e allo stesso tempo raggiunti. Io personalmente sono un uomo che ha sempre per certi versi voluto affrontare le sfide, anche quelle in mare aperto, come accennavo durante l'intervista, sono uscito dalla Banca come direttore centrale nel 1994, non ero un politico, tendo a sottolinearlo, sono stato assorbito dalla politica come tecnico, anche in politica credo di avere vinto alcune sfide, prima come parlamentare, come Presidente della provincia, sono di nuovo qui per vincere nuove sfide e mi vedo all'interno di una banca che io ho amato come dipendente e che continuo a volere a guardare con grande effetto anche come amministratore. Dottore Vetto, proprio di discontinuità e anche di rapporti con la politica si è parlato anche con polemica e anche in riferimento alle richieste di Banca Italia, secondo lei questo CDA può affrancarsi da questo discorso e andare avanti? Io credo che questo CDA sia un CDA di alto livello, come peraltro lo era il precedente, ha una minore rilevanza per quanto riguarda alcune, diciamo non tanto significati, quanto alcune letture che potevano essere date precedentemente e oggi come oggi Banca d'Italia ci chiede proprio anche nella lettera una forte connotazione di natura tecnica e una minore rilevanza in termini di lettura politica. Mi insegnano i maestri di economia che le crisi, la crisi in realtà sottende a una grande opportunità, faccio una domanda un po' d'effetto, me la passi, avete grossissima opportunità perché siete nel mezzo di una crisi economica, di una crisi di governo e di una crisi piena in terra. Sì, credo che questo però sia anche una grande opportunità, nel senso che come accennavo prima, ad esempio noi abbiamo fatto gli accantonamenti su crediti deteriorati che erano garantiti dai mobili e quindi avevano delle garanzie ipotecarie e quindi reali. Io ritengo che se il mercato immobiliare, non so la ebollizione dell'Imu e alcuni benefici fiscali che credo il nuovo governo nel momento in cui vorrà rimettere in moto l'economia andrà a porre sul mercato, credo che questi crediti deteriorati e questi accantonamenti per noi possono diventare margine di utile. E così come altrettanto nei confronti alle piccole e medie imprese, andando un po' a sollecitare nuovamente un rapporto nei confronti, penso proprio all'imperiese, penso al Savonese, un rapporto più diretto non tanto nei confronti delle grandi operazioni immobiliari ma quanto piuttosto invece nei confronti alle piccole e medie imprese, credo che sotto questo profilo ne trarremo delle opportunità anche sul breve termine. Insomma facendo riferimento imperiese e Savonese, lei va a sfatare un po' questa polemica anche su questo CDA che ha eliminato il Ponente, lei dice Ponente non ha eliminato. Il Ponente ha una grande banca come la Casta di Spermio di Savona che serve esclusivamente il Ponente e quindi come tale io che sono un cittadino genovese sono un po' invidioso perché non è che la banca Carge guardi solo la Genova ma guarda tutta l'Italia, la Casta di Spermio di Savona, guarda a Savona Imperia e credo anche con un grande servizio e con una grande professionalità. In un ampio speciale dedicato alla conferenza stampa dei nuovi vertici di Bacca Carice tenutisi appunto ieri a Genova andranno da questa sera alle 19.40 e alle 23.40 naturalmente su Imperia TV. La fine del PDL e la rinascita di Forza Italia sta provocando non pochi scossoni all'interno del centro-destra sia a livello nazionale che locale. Sono in molti infatti gli ex PDLini pronti a fare dei distingui e fra questi c'è anche Matteo Rosso, consigliere regionale e fino allo scorso anno capogruppo del PDL in regione. Matteo Rosso, allora in Liguria ma in generale questo PDL dove va? Tutto in Forza Italia oppure con dei distingui, distingui a quanto pare già ci sono? I distingui ci sono ed è inevitabile che ci fossero anche amici, io penso a Gianni Plinio per esempio, un grande amico, figura storica di alleanza nazionale dell'MSI prima, chi ha una provenienza da partiti di destra, vera e propria, difficilmente si può riconoscere oggi in Forza Italia e questo è comprensibile, si può lavorare insieme ma con posizioni diverse. All'interno del PDL, diciamo delle figure istituzionalmente riconosciute, sia il Consiglio regionale, i consigli comunali, mi sembra che ad oggi non vi siano delle fughe dal PDL e quindi da Forza Italia. Ci sono i soggetti che invece non hanno magari mai raccolto neanche un voto o ne hanno raccolti ma non sono stati eletti che oggi probabilmente vanno a casa a cercarsi delle altre case dove collocarsi. Io non credo che questo sia il momento per fare altri partiti, cerchiamo di ragionare all'interno del grande scatolo, scatolone che sarà il nuovo partito Forza Italia, come è stato insieme e come cercare di vincere e soprattutto di battere la sinistra nelle varie elezioni che abbiamo le europee, abbiamo le regionali dopo un anno e mezzo, forse saranno le politiche prima o dopo, non so quando ci saranno queste politiche. Noi dobbiamo trovare un contenitore in cui siamo più o meno tutti sulla stessa linea. Io credo che sia normale che ci siano delle discussioni, qualcuno se andrà, ma di quegli eletti qua in regione e nel comune anche per esempio di Genova o in altri comuni io non sento nessuno dire che se ne andrà. Ecco c'è ragionamento però berlusconiani o meno berlusconiani a livello nazionale, a livello locale si potrebbe forse dire scaiolani o meno scaiolani? Ma io credo che in questo momento non sia questione di scaioliani o non scaioliani, ormai ognuno ha una sua, tra virgolette, autonomia e ha anche dei suoi riferimenti con i propri elettori. Io genovese, primo delle elette nel mio collegio, devo fare riferimento a questi elettori e non posso tradirli, indipendentemente da quello che mi viene detto da uno o dall'altro leader. Io credo che ad oggi se noi usciamo tutti quanti da Forza Italia e ognuno prende la sua strada ci disgreghiamo completamente. Se il collante è Forza Italia, lo è stato una volta, deve esserlo in modo diverso. Adesso io chiedo che anche chi ci guiderà a livello nazionale, cioè i referenti, i segretari nazionali, i coordinatori nazionali, vengano scelti con un modo di condivisione con dei congressi, cioè non possiamo trovarci, se no alla fine non facciamo altro che traslocare il PDL in Forza Italia e questo è ovvio che non va bene. Ma adesso ognuno prende la sua strada, sarebbe un disastro e la vittoria della sinistra. Dopo le recenti polemiche inerenti in servizio di nettezza urbana, nella tarda mattinata di oggi a Palazzo Belvia Sanremo si è tenuta una conferenza stampa sulla questione. L'assessore all'igiene urbana Antonio Fera ha risposto duramente a quante gli hanno chiesto le sue dimissioni. Assessore Fera, che cosa risponde a chi chiede le sue dimissioni? Ho appena terminato la conferenza stampa spiegando ampiamente le motivazioni, cercando di interpretare le motivazioni che hanno portato queste persone che ne individuo due, uno la dottoressa Cassini e l'altro l'avvocato Sindoni perché sui giornali ho letto i loro nomi, per informazioni avute non risulta che gli altri membri si siano espressi. Ma io, cosa vorrei che le dica, resto un po' meravigliato, non ho risposto subito perché volevo documentarmi, perché vedo più un attacco personale che non un attacco all'assessore. Perché io tutto quello che doveva essere fatto l'ho fatto sia nei tempi sia nelle modalità. Su questo penso che non ho nulla da rimproverarmi. Respingo fermamente a queste accuse dicendo che non mi hanno neanche dato fastidio perché penso che siano, le definisco già in campagna elettorale, quindi qualche persona probabilmente avendo poco riscontro nell'ambito cittadino cerca di farselo in questi modi. Ma sicuramente l'invito è a intraprendere altre strade per prendere dei voti perché la strada è sempre sbagliata quando per essere grandi denigri gli altri. Quindi per essere grandi devi essere grande. Per quanto riguarda invece l'appalto per il servizio di pulizia della città? Ma in quanto a dei servizi penso che non ci sia una cosa dove funziona tutto al 100%, tantomeno quella. Io come assessore ho la responsabilità politica, ho sempre chiesto al dirigente di espletare sia lui che gli uomini al meglio quello che erano le loro competenze. Mi hanno sempre risposto che lo stanno facendo e quindi io come parte politica ho poco da entrare in merito a questo. Entro in merito invece a quanto mi si accusa che io insieme ai miei colleghi o all'amministrazione vogliamo in qualche modo velatamente tenere le parti della Imeri, ma io ho espletato al massimo, di nuovo ripeto, le mie competenze, i miei mancato pagamento che ultimamente è avvenuto nuovamente, io ho chiesto agli avvocati, alle persone competenti dell'ufficio se c'erano i presupposti per mandarle Imeri a casa. Mi è stato risposto che non c'erano i presupposti. Quindi io più di questo non posso né incatenarmi né volontariamente mandare a casa la ditta Imeri, ma penso che sia un lavoro da farsi di gruppo così come doveva nascere con la Commissione Imeri che doveva essere un lavoro di gruppo insieme all'assessore, insieme al sindaco, insieme a tutti portare avanti un miglioramento nella futura gara d'appalto. Sono previste per domani sia nella sede di Imperia sia in quella di Savona una serie di assemblee dei lavoratori dell'Ips per dibattere sulle difficili situazioni attuali che ha portato ad uno stato di agitazione. Le organizzazioni sindacali di CGL, CISL, Will e CISAL hanno poi organizzato alcune manifestazioni con presidi dei lavoratori davanti alle sedi degli istituti previdenziali per venerdì a partire dalle 10. Nell'occasione sarà distribuito materiale informativo sulla vertenza che tocca un settore, quello della previdenza pubblica, molto delicato specialmente in questo periodo di crisi economica per il sostegno alle famiglie erogata appunto dall'Istituto. Noi facciamo una breve pausa tra poco. Il prefetto di Imperia Fiamma Spena ha ricevuto questa mattina la visita ufficiale del console generale degli Stati Uniti d'America a Milano, Keller Scott. Il colloquio ha permesso alle due autorità di discutere a lungo delle realtà provinciali per un comune scambio di vedute sulle prospettive turistiche ed economiche del territorio, con particolare riferimento alle realtà produttive. E proseguono i rapporti e i progetti per stringere sempre di più i rapporti tra la regione Liguria e la regione Lombardia in vista dell'importante appuntamento di Milano Expo 2015. L'obiettivo è infatti quello di rafforzare la collaborazione in campo turistico e dell'attrattività di rispettivi territori con le loro eccellenze e specificità. La volontà è quella di creare le condizioni a dar vita ad un sistema sovraregionale di coordinamento delle politiche regionali su quale fondare la competitività dell'offerta turistica. Un primo incontro per unire queste varie realtà si terrà domani alla Spezia, a bordo della nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci. Potrebbe essere istituita presso il polo universitario in Periese una nuova laurea triennale in scienze del turismo. Il progetto è al vaglio della Scuola di Scienze Sociali dell'Università di Genova. Questa laurea dovrebbe preparare a sbocchi professionali nei settori del turismo, dello spettacolo e delle attività sociali ecocompatibili e della comunicazione turistica. L'iniziativa è stata trattata durante un incontro organizzata in prefettura per approfondire questa occasione. Nuovo impegno per l'orchestra giovanile del Ponente Ligure. Il 9 ottobre inizia infatti una tournée locale di musicisti provenienti dalla Bosnia che sarà seguita e supportata dall'orchestra giovanile Imperies. Il prossimo 9 ottobre a Imperie inizierà una breve tournée dei giovani musicisti della Scuola di Musica Vlado Milosevic di Bania Luca in Bosnia. I ragazzi saranno ospiti dell'orchestra giovanile del Ponente Ligure che nella scorsa primavera si era recata nella capitale bosniaca per tenere due concerti. I giovani bosniaci e i loro accompagnatori saranno ricevuti in comune a Imperia per una breve cerimonia di accoglienza e poi visiteranno Imperia, Sanremo e l'entroterra. Sono previsti due concerti dei giovani musicisti bosniaci. Il primo venerdì 11 ottobre alle 21 al Teatro Cavour d'Imperia e il secondo a Pieve di Teco sabato 12 alle 18 nell'oratorio di San Giovanni Battista. In entrambi i casi l'ingresso sarà gratuito. Giovedì alle 10 al Palafiori di Sanremo è in programma un incontro organizzato dal Club Tenco dedicato all'introduzione alla canzone d'autore anche attraverso la proiezione di alcuni documenti. Saranno presenti anche gli istituti Ruffini e viossi d'Imperia che hanno risposto positivamente all'invito. È la prima volta che il premio Tenco risponde appunto positivamente e che quest'anno vuole aprirsi verso l'esterno ed inserire nel programma della manifestazione un incontro pensato appositamente per le scuole. Esiterà sabato ad Andorra presso il Mio Ranch la sesta tappa regionale del campionato NBH per disciplina di Mountain Western o Pole Bending Bar Racing. L'appuntamento si sarebbe dovuto tenere domenica scorsa ma a causa del maltempo era stato appunto rinviato. Le prove sono in programma alle 10 mentre le gare si terranno a partire dalle 14. Bene, ora vediamo i cantieri sull'autostrada dei Fiori e il quadro meteo. Questi cantieri sull'autostrada dei Fiori nel tratto di competenza Savona a confine di Stato che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre. In direzione Francia careggiata nord tra Spotorno e Feglino riduzione di careggiata per la posa della segnaletica per chiusura di uno svincolo da giovedì a venerdì anche notturno. L'uscita di Feglino rimarrà chiusa dalle 20 di giovedì 3 alle 4 di venerdì 4 per rinnova dell'impianto di illuminazione alla pensilina. Tra finale Ligure e Pietraligure riduzione di careggiata per il risanamento di un cordolo al Via Dottoranzi da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Albenga e Dandora scambio di careggiata per bonifica la pavimentazione drenante e fona sorbente da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Imperia Est ed Imperia Ovest riduzione di careggiata per l'installazione di barriere antirumore per mitigazione acustica da lunedì a venerdì anche notturno. In direzione Genova careggiata sud tra Imperia Ovest ed Imperia Est riduzione di careggiata per l'installazione delle barriere antirumore per mitigazione acustica da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Andorra ed Albenga careggiata doppio senso per lavori sulla careggiata opposta da lunedì a venerdì anche notturno. L'entrata di Feglino rimarrà chiusa dalle 20 di giovedì 3 alle 4 di venerdì 4 per rinnova dell'impianto di illuminazione di una pensilina. Tra Savone ed Albenga da lunedì 30 a venerdì 4 sarà presente un cantiere mobile per lo sfalcio delle erbe che interesserà la corsia di marcia in entrambe le direzioni. Vediamo il quadro meteo di Arpal Meteo Liguria con le previsioni di domani, mercoledì 2 ottobre. Parziale diminuzione della nuvolosità in mattinata con nubi irregolari ed ampie schiarite. Nel pomeriggio nuova intensificazione della nuvolosità fino a un nuvoloso per addensamenti nei bassi strati e passaggi di nubi alte. Umidità su valori alti, venti da nord a nord-est fino a moderati sul centro ponente al mattino e in serata deboli in regime di brezza o variabili nella parte centrale della giornata. Il mare sarà mosso in temporaneo calo fino a poco mosso. Dopodomani, giovedì 3 ottobre, nessuna variazione di rilievo con ancora nuvolosità irregolare associata a schiarita al mattino ed un parziale aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Dalla serata, l'approssimarsi di una nuova perturbazione potrà portare ad iniziali deboli precipitazioni sul ponente. Umidità su valori medio-alti, venti moderati da nord sul centro ponente nelle prime ore ed in serata. Intemporanea attenuazione nella parte centrale della giornata, mentre sarà in rinforzo fino a forti da est a largo. Il mare è in aumento fino a mosso, localmente molto mosso, sull'estrema ponente. Nessuna segnalazione di protezione civile. Chiudiamo qui il nostro giornale. L'appuntamento è alle prossime edizioni. Il nostro sito, lo ripetiamo, periatv.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata. Il nostro sito, lo ripetiamo, periatv.it.